Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Trassigna l'allacciamento per la A1 in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze, rallentamenti in direzione Firenze all'altezza della rotonda di Firenze in Pruneta. A Firenze, fino a metà settembre, lavori di e-distribuzione in via Pisana nel tratto a cavallo del ponte sulla Greve. Buon si toscana, è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!